Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Come vedete si ritorna alla solita postazione make-up senza l'albero di Natale. Prima di incominciare volevo salutare e ringraziare tutte le amiche virtuali di YouTube con le quali ho legato molto in questo quasi anno sul tubo, in quanto hanno allietato ulteriormente le mie vacanze natalizie che sono state veramente molto belle, anche perché ci siamo scambiate auguri. Tra cui ragazze appunto vi voglio ringraziare tutte quante, voi sapete a chi mi riferisco, vi mando un bacione e spero che la nostra amicizia continui, insomma magari anche chi lo sa, quando sarà il momento, incontrandoci anche in carne ed ossa, diciamo così. Nel mio caso più carne che ossa. Va bene, adesso andiamo avanti. Il video di oggi sarà una review della Naked 3, la palette di Urban Decay che ho ricevuto in regalo per Natale dal mio marito. Questo video di solito io quando faccio una review di un prodotto aspetto di utilizzarlo per un bel po', soprattutto nel caso di una palette. Però per quanto riguarda la Naked 3 credo che si possa già, nonostante le sole tre settimane che la sto utilizzando, fare una review perché comunque dal punto di vista qualitativo il prodotto rimane sullo stesso livello delle precedenti Naked, ormai straconosciute per cui insomma voglio già parlarvene. Ma soprattutto quello che voglio fare durante questo video è uno swatch in tempo reale insieme a voi per agevolare, spero di essere così utile, quelle ragazze che magari l'acquistano online a scatola chiusa senza poterla swatchare direttamente in negozio e magari così possono rendersi conto un po' meglio di quello che stanno per acquistare. Per cui ragazze partiamo subito, allora la Naked 3 per quanto riguarda il packaging è questa, ha mantenuto lo stesso packaging in latta della Naked 2 che vi mostro subito, vedete, ed è stata una scelta vincente da parte della Urban Decay perché se ricordate il packaging della Naked 1 era questo qui in credo cartone rivestito di velluto, molto bello ma sicuramente molto delicato sia per quanto riguarda la sporcizia che per quanto riguarda l'apertura, perché vedete è veramente molto facile che si apra accidentalmente. E questa quindi mantiene questo bello scatto robusto, per cui robusta rispetto agli urti, allo sporco e all'apertura accidentale. Per quanto riguarda anche l'interno della palette, mantiene lo stesso packaging essenzialmente della Naked 2, scusate ma si è attaccata alla cover dell'iPad, non ci crederete mai, comunque sia la Naked 2 è questa, ho il flap magnetico e quindi la Naked che è in latta si attacca, vedete che lo specchio full size, per cui stesso packaging della Naked 2. Quello che cambia è in pratica la scritta e questa superficie ondulata che la distingue appunto dalla 2, che vedete è liscia. La scritta è dorata, c'è il 3 ovviamente al posto del 2 e in pratica il colore ricorda già il fatto che all'interno, che in pratica è un colore oro caldo, ricorda già che il filo conduttore di questa Naked 3 è il rosa. Per cui la differenza fondamentale rispetto alle Naked precedenti è proprio questo e lo potete già vedere a colpo d'occhio. Io spero che la videocamera rimandi il più fedelmente possibile i colori. Per quanto riguarda il prezzo, la Naked 3 costa sempre 45,90 euro come le precedenti, nel mio caso l'ha acquistata mio marito, però ovviamente era un regalo pilotato, per cui l'ho mandato da Sephora con la Black Card e quindi la Sephora Black e quindi ha potuto usufruire di uno scondo del 20%, perché fino al 24 dicembre, lo saprete tutte, c'era lo scondo da Sephora del 20% su qualsiasi acquisto, per cui l'ha pagata credo 36,90 euro se non sbaglio, perché togliete 9 euro e insomma circa una decina di euro in meno. Di solito e mio marito non ci facciamo sorprese per quanto riguarda i regali, lo so non è molto romantico, ma insomma preferiamo così. Quando voi acquistate la Naked 3 viene venduta all'interno di questo packaging in cartone, che riporta il nome della palette, il marchio e la fotografia delle cialde spezzate che mi fa impazzire. In retro stesse cialde ma con i nomi riportati sopra e foto dalla dotazione interna. Come sempre infatti la Naked viene venduta con una dotazione piuttosto ricca che consiste in un pennello e in alcune mini size della eyeshadow primer potion. Con la Naked 3 viene dato questo pennello che vedete, da un lato per applicare l'ombretto sulla palpebra mobile, dall'altro pennellino per sfumarlo nella piega. E' pressoché identico a quello della Naked 2, che è quello in basso, si differenziano solo per la lunghezza delle setole dalla parte dello sfumino, più lungo per quanto riguarda la Naked 2, però dall'altro lato sono pressoché identici. Per quanto riguarda invece l'altra dotazione c'è una selezione di vari tipi di eyeshadow primer potion in mini size. In pratica è contenuta all'interno di questo packaging che le illustra tutte e quattro in inglese e in francese e le mini size sono queste. Io devo ancora utilizzarle, per cui vi terrò aggiornate nei prossimi video, che possono essere make up tutorial oppure gli usati dalla settimana. Ve le faccio vedere in breve e sono da una parte original, che è la versione classica, ed edem, che come vedete si differenzia leggermente come colorazione. Mentre le altre due colorazioni sono SYN e anti-aging, rispettivamente SYN mi pare un pochino più scura rispetto alle altre, mentre anti-aging è quella anti-ruga e anti-età. Anche la Naked 3, come potete vedere al suo interno, è composta da 12 cialde rettangolari, da 1,3 grammi ciascuna, come è indicato sul retro della confezione, qua lo potete vedere, vedete 12 per 1,3 grammi, i colori sono totalmente nuovi rispetto alle Naked precedenti. Vi voglio fare un confronto diretto tra Naked 2 in basso e col packaging più scuro e Naked 3 in alto, per cui potete vederlo voi stesse, completamente diversi, non c'è una cialda uguale. Stesso discorso vale confrontando la Naked 3, questa volta in basso, con la Naked 1 in alto. Come si può capire da un rapido sguardo e come succedeva per le precedenti Naked, ci sono solo tre cialde opache, per cui il finish predominante è lo shimmer, più o meno glitterato. Le uniche tre cialde matte sono rispettivamente la prima che si chiama Strange, la quarta che si chiama Limit, che è questo color cipria, e infine la settima che è Nooner, un bel color top che si applica nella piega. Con questi tre colori si realizza il nude rosato di base. Come ho già detto in un precedente video. Adesso passiamo allo swatch diretto delle cialde, cambio e inquadratura per agevolare la visione, per cui ci vediamo dopo. Partiamo adesso con lo swatch delle cialde, inquadrando le prime quattro, che sono, rispettivamente dalla mia sinistra, Strange, Dust, Burnout e Limit. Come ho già detto in un precedente video. Io sono chiarissima, per cui sicuramente i colori si vedono poco, ma spero vi arrivino. Le prossime quattro cialde che svuoceremo sono Buzz, Trick, Nooner e Lyar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete queste quattro cialde rispetto alle precedenti sono più scure quindi più visibili rispetto alla mia pelle così chiara secondo me una più bella dell'altra Concludiamo con le ultime quattro cialde che vedete inquadrate adesso che sono rispettivamente Factory, Magshod, Darkseid e Blackheart Blackheart secondo me è uno dei colori più belli che si possono, io non so se vi arriva ve lo voglio inquadrare un attimo potete proprio vedere credo i glitter rossi contenuti all'interno di questa cialda perché è meravigliosa vedete che cambia addirittura e si vede proprio qua, si vede in particolare stupenda spero arrivi anche a voi queste qua sono le cialde più scure della palette di nuovo una più bella dell'altra insomma non so neanche io cosa dirvi perché sono talmente belli secondo me che si commentano da soli benissimo ragazzi, questi erano gli swatch ultima considerazione, siccome se ne sente parlare abbastanza la polverosità della Naked 3 rispetto alle precedenti Naked anch'io vi confermo, lo avrete anche notato voi stesse durante lo swatch di alcune cialde in effetti c'è un po' più di polverosità rispetto alle Naked 1 e 2 però secondo me il discorso giusto da dire è che non è che la Naked 3 è polverosa è un pochino più polverosa rispetto allo standard elevatissimo di polverosità nulla delle Naked precedenti però a mio parere la cosa riguarda soprattutto le cialde più chiare io ho notato che le prime 4, diciamo pure 5, sono le più polverose le altre secondo me no, non lo sono fatto queste in effetti sì, rispetto alle Naked dalle quali siamo abituate secondo me, a mio modesto parere, dipende dal colore e dal fatto che alcune cialde, in particolare Dust che forse è la più polverosa di tutte e si può vedere allo stesso modo di Buzz è una cialda shimmer quasi glitterata per cui secondo me è questa texture che la rende polverosa parliamo adesso della versatilità della palette secondo me delle 3 Naked questa è la più versatile perché comunque è vero che è una palette basata sui toni del rosa ma in realtà troviamo tante altre tonalità come ad esempio l'oro, il grigio, il nero magari declinate su una base rosa ma comunque tonalità differenti per cui è una palette che si può usare dal mattino alla sera perché potete veramente creare un po' come succedeva per le altre due il look più nude e più naturale che ci sia fino ad arrivare a uno smoke intensissimo utilizzando le cialde più scure oppure trucchi dorati per cui anche trucchi per le feste per cui secondo me è versatilissima ancora di più delle precedenti forse però tenete conto che io amo molto l'ombretto rosa la base rosa per cui questo incide sicuramente da quando io ho acquistato la prima Naked devo dire che l'amore verso queste palette è crescita 1 è quella che mi piace meno la 2 mi piaceva già di più ma la 3 le supera tutte se ve ne devo consigliare una io vi consiglio la Naked 3 nonostante le considerazioni fatte sulla polverosità ovviamente secondo me averle tutte e tre è l'ideale perché comunque non sono assolutamente l'una il doppione dell'altra spero di avervi detto tutto se avete delle richieste delle domande fatemele pure fatemi sapere cosa ne pensate se avete anche voi la Naked 3 se avete intenzione di acquistarla se vi piace di più o di meno rispetto alle altre due se le possedete insomma tutte queste cose sono curiosissima io vi ringrazio vi saluto vi mando un grosso bacio e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video ciao